e benvenuti a tutti in questo nuovo video sul mio canale youtube siamo giunti al termine di un ulteriore mese sembra veramente assurdo ma purtroppo è così anche maggio se n'è andato via il video di oggi voi andrete a vedere alcune piccole clip che ho registrato durante la durata del mese di maggio per l'appunto vi lascio al video iscriviti al canale ciao 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 un like qui sotto e inoltre in caso vi facesse piacere seguirmi su altri social vi lascio qua scritte in sovraimpressione i miei detto ciò io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video